Bella a tutti ragazzi, sono Electro e oggi commenterò la top 3 Ezza numero 26, partiamo subito In terza posizione c'è una clip divana, una clip assurda su BO3, ci porta con Locus Nuketown Un collateral, collateral per la multi, davvero bellissima clip Ma non finisce qua, stessa partita, same game, sempre con Locus, ci porta singola, 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 no aspetta, fail singola, ecco Ci porta una code per due, same game, con la multi, davvero bello In seconda posizione ci sta una clip di Styleds, MU3 col Dragono Allora, ci porta una singola head, doppia, triple head, boom, quad head, mi Dragono, on screen, davvero bella, su MU3 E in prima posizione, in prima posizione ci sta Passion, che su Code 2 ci porta una clip davvero assurda Allora, fa singola, fail, collateral, tripla e singola Per la 6 multi su Code 2, clip davvero assurda Con l'Anfield, mi sembra che si chiama il cecchino Clip davvero bella per Passio E niente, la top 3 Ezza è terminata Vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto E niente, bello Passione qui